L'Expo a livello mondiale è il fatto che come il primo di Sanremo è una conversione che è sintonica, si riesca, infatti che gli organi possano suonare all'interno dell'Expo l'assessore del turismo regionale a San Renese è una grande grande discussione. D'altro si inserisce in un momento di cui di Sanremo all'Expo si è parlato molto perché ieri abbiamo presentato l'inizio insieme alla Lombardia e al Piemonte della Milano-Sanremo-Gusto che potrebbe avere nel prossimo futuro un sviluppo importante e a tre giorni di distanza la nostra orchestra penso che sia importante per la nostra città e per l'Avriglia tutta che hanno messo in grado le decidenze della nostra città e quindi io ringrazio il primo di Sanremo per aver fortemente voluto il suo portato, la presenza dell'Avriglia della Pessa Sinfonica L'Expo e l'Avriglia della Pessa Sinfonica per avere fatto in modo che ciò si realizzasse fosse possibile che trovava anche lo strumento, non musicale, ma lo strumento, la formazione per poter suonare questa importante manifestazione. Vi faccio notare che dopo questi giorni nella via principale dell'Expo di fronte al Palazzo Lombardia è situato a un...